cari presenti, ai nostri stakeholder, agli organi di stampa e ai tanti che seguono l'evento a distanza. Questo appuntamento è stato fortemente voluto dalla Giunta e dal nostro Presidente e la presenza stessa del Presidente Gola qui lo testimonia perché vi rivelo che lui aveva tutta una serie di appuntamenti fuori sede stamattina e ha rivoluzionato tutto il calendario per poter essere qui con voi. Quindi partirei immediatamente col saluto del Presidente Mauro Gola. Grazie Gianni, buongiorno a tutti. In effetti avevo già preparato il video la scorsa settimana perché avrei dovuto essere a Milano, mi hanno spostato gli appuntamenti su Torino per cui vi chiedo scusa farò l'apertura poi devo partire andare. Tra l'altro il video era venuto benissimo. Se volete vi saluto e vado via. È un rammarico. Facciamo girare il video senza audio dietro se volete vederlo. Saluto anche tutte le persone che sono in collegamento. Ringrazio anche i giornalisti. Per noi oggi è una giornata importante e fondamentale per parecchi motivi tra cui almeno due riguardano non soltanto la trasparenza come momento che viene richiesto ma diventa un momento in cui per noi la condivisione delle informazioni e neanche delle attività che la Camera poi avendo questa autonomia funzionale e quindi siamo pubblici ma non statali e parallelamente ci occupiamo ovviamente della parte privata delle aziende pur non essendo privati. Ma per noi è un elemento che assieme alla mia giunta, assieme al mio consiglio abbiamo voluto portare avanti perché in un certo modo le Camere di Commercio erogano servizi. Hanno la missione di incentivare, di favorire l'impresa e l'imprenditorialità e allora in un certo senso erogano servizi. Tutto questo ovviamente l'indirizzo che come ho detto come giunta e come consiglio non si potrebbe fare se non ci fosse la capacità, la buona volontà a cominciare dal segretario generale Patrizia Mellano a ovviamente gli altri dirigenti e al personale tutto che poi alla fin fine scarica a terra quelle che sono le idee e le volontà che vengono così discusse all'interno della nostra giunta. E principalmente per noi come abbiamo voluto già a fine gennaio inaugurare lo spazio impresa o il salone del futuro ma la sostanza al centro era proprio quella di mettere l'impresa e quindi una struttura che vede l'impresa ferma che arriva e tutta la struttura che ci gira attorno. Quindi lo spazio impresa ha proprio questo concept, questo framework perché se eroghiamo servizi all'impresa diamo l'importanza all'impresa in un modo forse anche diverso, in un modo in cui si erogano oggi i servizi quindi anche in un senso proattivo perché la professionalità che noi troviamo in questa camera di commercio e in generale nelle camere di commercio parte proprio da questo, non soltanto più ad una domanda dell'impresa o ad una risposta ma la accompagno in tutte quelle che sono le attività ma proprio con questo framework l'impresa sta ferma di là per chi ha potuto e ha visto il salone, lo spazio impresa e a turno in funzione o dell'appuntamento o delle necessità la struttura ruota attorno. Quindi questa per noi è la centralità e siamo riusciti e la portiamo avanti proprio con un grazie veramente più che doveroso, un grazie sentito a tutte le persone che lavorano in questo senso. Ringrazio i relatori, ringrazio la D'Arrico, la dottoressa Mellano ma soprattutto il dottor Pagnoncelli che mi perdonerà ma ho avuto il privilegio di vedere qualche slide che mostrerà dopo e che commenterà. Innanzitutto ci vede ben posizionati e quindi questo per noi è già fattore di importanza. Per noi questo misurare la temperatura e il percepito di come una Camera di Commercio che eroga servizi all'impresa diventa un elemento fondamentale. L'abbiamo condiviso a livello nazionale, l'abbiamo voluto approfondire questo già il secondo anno anche a livello locale. Abbiamo ovviamente ancora molto da fare, ci sono delle aree non di criticità ma di miglioramento. Dalle slide, dai commenti ne cito uno, quella dell'internazionale. Noi siamo una provincia che ha questa grande vocazione internazionale, ci avviciniamo come spesso dico più agli amici tedeschi che agli altri perché abbiamo quasi 11 miliardi di esportazione su un PIL di 21 e quindi siamo quasi al 50%, la media nazionale è vicino al 32-33%. Va ricordato che però il legislatore ci ha tolto questa possibilità, noi non possiamo più fare le missioni all'estero o fare l'accompagnamento all'estero, noi possiamo creare la cultura, dopodiché però abbiamo voluto iniziare, credo che sia il primo, non voglio dire solo in Piemonte ma anche in un territorio più ampio, abbiamo fatto un protocollo l'anno scorso col CEIP e quindi abbiamo un'antenna del CEIP che può mettere a fattore comune tutto quello che è il CEIP, il centro estero per le imprese, verso i mercati e quindi noi facciamo una parte di formazione e l'accompagnamento viene fatto proprio in forza di questo accordo. Quindi per noi la giornata della trasparenza vuol dire condividere queste informazioni, condividere le attività che abbiamo fatto, con chi? Con gli stakeholders, abbiamo lavorato anche molto bene con tutte le associazioni di categorie che ringrazio, ne vedo anche qualcuna presente o qualcuna collegata, perché questa è di nuovo la nostra forza. Noi abbiamo la volontà di arrivare con qualunque metro e qualunque metodo alle imprese, allora in parte ci arriviamo direttamente ma in parte le abbiamo intermediate con le nostre associazioni, abbiamo anche aiutato, cerchiamo di aiutare con le progettualità, progettualità grandi che le associazioni fanno proprio per arrivare ancora più vicino a quello che sono le imprese, che sono la ragione d'essere poi alla fine della nostra Camera di Commercio. Quindi io vi ringrazio della vostra partecipazione, ringrazio la struttura perché come ho detto prima certe cose si pensano, si fanno, si fa un solco ma poi chi effettivamente le fa è la professionalità delle persone che ovviamente ogni giorno sono contatti. abbiamo proprio in questo senso, e lo voglio ricordare, anche ampliato negli anni quello che è l'orario di front office perché siamo passati da 17 a 31 ore, non che prima non si faceva nulla e adesso si fa perché dietro ogni pratica c'è un back office importante, ma proprio per dare questa attenzione maggiormente con slot, con orari continuati, cioè favorire chi eroga servizi, questo lo sa, favorire quello che oggi le imprese hanno bisogno sapendo che è già molto complicato fare imprese. Quindi ripeto, ringrazio tutte le persone, ringrazio i giornalisti e credo che giornate di trasparenza in cui non è soltanto la normativa che ci impone ovviamente di rendere pubblici i percorsi, ma è proprio un solco su cui noi ci crediamo fermamente perché la ragion d'esse, come ho detto prima, delle Camere di Commercio sono le imprese e se vogliamo metterle al centro veramente l'abbiamo messo al centro con lo spazio del futuro. Grazie, vi chiedo scusa ma dovrò assentarmi, ma se volete facciamo la ripetizione con il video, altrimenti grazie e grazie anche un ringraziamento, mi perdonino l'assessore e la sindaca che non lo citate, ma grazie anche il Capitano dei Carabinieri. Grazie mille a tutti. Grazie, il Presidente ha ribadito come l'impresa sia al centro di tutte le azioni della Camera di Commercio, ha purtroppo spoilerato l'esito positivo dell'indagine, quindi ha tolto un pochino di suspense, indagine che sarà spiegata in modo dettagliato, analizzata in modo dettagliato da un personaggio che non ha chiaramente bisogno di presentazioni, il Professor Nando Pagnoncelli, Presidente di Ipsos, che ci fornirà adesso una lettura approfondita dei risultati del sondaggio. Dico ai giornalisti in sala e a quelli che sono collegati che potranno, quelli in sala, effettuare delle domande, mentre quelli collegati potranno scriverle in chat. Adesso lascio la parola al Professor Pagnoncelli. Grazie mille, buongiorno, un saluto cordiale davvero a tutte le persone presenti. Mi dispiace non poter essere con voi in presenza, ma insomma sono purtroppo giornate abbastanza intense, quindi voglio dire che mi faceva però piacere essere collegato, essere presente, e condividere con voi i risultati di questa ricerca. Ringrazio il Presidente Gola, ringrazio la dottoressa Mellano per questo invito. Devo dire che la ricerca che abbiamo realizzato per la Camera di Commercio di Cuneo si inserisce nell'ambito di una serie di ricerche che stiamo realizzando sia a livello nazionale per Union Camere, ormai da diversi anni realizziamo ricerche per misurare quella che è la reputazione, l'immagine, le opinioni degli imprenditori, delle imprese nei confronti della propria Camera di Commercio, è un campione nazionale evidentemente, ma realizziamo anche alcuni approfondimenti per singole Camere di Commercio interessate a capire qual è sostanzialmente il livello reputazionale all'interno del proprio territorio. Direi che è un fatto inedito però presentare i risultati pubblicamente, perché solitamente queste presentazioni vengono fatte agli esponenti della Camera di Commercio locale, e quindi appunto nel rispetto della giornata della trasparenza mi sembra davvero incomiabile il fatto che si vogliono condividere risultati, sono sicuramente risultati positivi, però ci sono anche alcune aree di attenzione, alcune aree critiche, e il fatto di rendere trasparenti anche questi elementi rappresenta un aspetto estremamente importante per il rapporto che la Camera di Commercio ha con i diversi stakeholder del territorio e non solo. Condividerei con voi le slide con i risultati e vi chiedo solo la cortesia di dirmi se si vede lo schermo, se si vedono le slide. Sì, bene, grazie. Perfetto, vi ringrazio. Ecco, allora innanzitutto dicevo si è trattato di una ricerca che abbiamo realizzato appunto nel territorio, tra ottobre e novembre dello scorso anno, devo dire che i dati possono essere confrontati con la ricerca nazionale, proprio perché la ricerca nazionale è stata condotta nel mese di ottobre, quindi stiamo parlando dello stesso periodo di rilevazione, questo è importante sia perché molto spesso le opinioni sono influenzate dalla congiuntura economica, dal clima sociale e così via, quindi la quasi simultaneità delle due ricerche ci autorizza a confrontare i risultati. Abbiamo selezionato un campione di 200 imprese che operano appunto a Cuneo, nella provincia di Cuneo, vedremo tra un secondo la distribuzione del campione, però ecco un dato che distingue la ricerca realizzata appunto per la Camera di Commercio di Cuneo rispetto alle altre Camere di Commercio, è che abbiamo integrato le interviste alle imprese con una fase di interviste a direttori responsabili di alcune delle associazioni più rilevanti al territorio, sono interviste semistrutturate, non hanno valenza quantitativa, però sono decisamente molto interessanti perché abbiamo voluto anche presso questo target individuare quelli che possono essere gli elementi di valutazione rispetto all'attività della Camera di Commercio di Cuneo. Dicevo, il campione intervistato è un campione costituito appunto da imprese che rappresentano il mondo imprenditoriale della provincia di Cuneo, sono prevalentemente, lo vedete, imprese fino a nove addetti, il 93% delle interviste, vedete la distribuzione per settore, l'anzianità dell'azienda, l'iscrizione o meno ad associazioni, volevo solo sottolineare il fatto che le interviste sono state... Professore? Sì? Deve far scorrere le slide perché siamo ancora fermi sulla prima. Ah, caspita, allora... Io le ho fatte scorrere le slide, però appunto non riesco a capire il motivo per cui non si vedano e quindi vi chiederei solo un secondo per poter ricollegarmi e ricondividere le slide. Allora, vediamo. Sì, ora vengono avanti, ora scorrono. Perfetto, grazie, grazie mille. Appunto dicevo che l'elemento che qualifica anche le risposte che sono state fornite è legato al fatto che i rispondenti sono in larga misura quasi tre quarti dei casi titolari oppure i responsabili finanziari, i ministri delle delegati, altri manager e così via. Quindi opinioni decisamente qualificate, opinioni informate. Allora, un primo elemento, lo richiamava il Presidente Gola nel suo intervento introduttivo, è l'export. È interessante osservare come nel nostro campione, ripeto, un campione rappresentativo delle imprese della provincia di Cuneo, il 20% dichiari di esportare, il dato medio nazionale un 14%, il dato delle regioni nord-ovest e quindi Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta si ferma al 14%. Qui vedete nella parte destra un dettaglio tra le aziende che trasportano, appunto abbiamo quasi la metà che si avalgono appunto per tutte le spedizioni di uno o più spedizionieri, un 30% invece spedisce in proprio e il 22% in modalità mista. L'altro aspetto che abbiamo voluto rilevare nella fase introduttiva, quella che in qualche modo ci dà un po' il quadro delle imprese, il 13% effettua e-commerce, pratica l'e-commerce, e qui il dato è in linea, assolutamente in linea, con il dato del nord-ovest, delle imprese interpellate nel nord-ovest, l'indagine Union Camere, ed è un paio di punti sotto invece il dato medio italiano. Un dato che rileviamo solitamente all'inizio del nostro questionario è quello relativo ad individuare chi ha rapporti con la Camera di Commercio nell'ambito dell'azienda. E allora vedete che nel 31% dei casi si tratta di personale dell'azienda, esclusivamente personale dell'azienda, un 18% in parte personale dell'azienda e in parte intermediari, e gli intermediari quali sono? Sono il commercialista, il notaio, è un'agenzia di disbrigo, di pratiche amministrative e così via, e poi abbiamo un 13% che utilizza prevalentemente gli intermediari, ma anche in alcuni casi personale dell'azienda, e un 38% è la maggioranza relativa che utilizza esclusivamente intermediari. Ecco, questo dato è molto importante, da un lato si spiega in ragione del fatto che la maggioranza delle imprese che abbiamo interpellato, come avete visto, e che rappresentano la realtà di Cuneo e della sua provincia, sono imprese piccole, quindi magari non hanno personale da dedicare, diciamo, al rapporto con la Camera di Commercio. L'altro elemento su cui riflettere è legato al fatto che, come vedremo nel corso della mia esposizione, le aziende che hanno un rapporto diretto con la Camera di Commercio, esclusivamente o prevalentemente, tendono ad avere un'immagine più positiva della Camera di Commercio. Cosa significa? Non voglio anticipare la conclusione, ma è che più si conosce la Camera di Commercio, più si apprezza. Quindi, attenzione, perché c'è una parte rilevante che non ha una relazione diretta, però sarebbe bene, evidentemente, provare ad avere, come dire, un rapporto un po' più diretto, o quantomeno attraverso gli intermediari far conoscere quelle che sono i servizi e la realtà della Camera di Commercio. Qual è lo scenario economico delle aziende? Anche qui chiediamo qual è lo stato di salute delle aziende. Vedete, chiediamo qual è il livello di soddisfazione per la situazione economica attuale della propria azienda, e poi quali sono le aspettative future. Anche qui vedete che c'è un 13% delle imprese che abbiamo interpellato che dichiara essere molto soddisfatto per la situazione economica, però la maggioranza assoluta, quasi 2 su 3, dichiara di essere abbastanza soddisfatto. Se noi sommiamo questo 2% e arriviamo al 78%, è un dato decisamente più elevato rispetto a quello che riscontriamo a livello nazionale, quindi l'insieme delle imprese nazionali che abbiamo interpellato per l'indagine Unione Camera, vedete si firma il 67% contro il 78%, però attenzione perché anche rispetto alle imprese che operano nel nord-ovest, ci sono sei punti in più di soddisfazione, quindi una situazione decisamente positiva, più positiva in provincia di Cuneo rispetto al nord-ovest e soprattutto rispetto alla media delle imprese italiane, da non sottovalutare ovviamente la quota di coloro che dichiarano invece di essere più in difficoltà, di essere poco o per nulla soddisfatti, rappresentano un quarto, un quinto delle imprese del Cuneese. Le prospettive future, anche qui la maggioranza assoluta, non si aspetta grandi cambiamenti nei prossimi 12 mesi, ovviamente abbiamo dato come definizione un arco temporale di un anno, non si aspettano una situazione che evolverà in positivo e negativo, quindi una certa staticità, una certa stabilità per meglio dire, poi vedete che c'è un 25% che è ottimista, l'1% pensa che migliorerà molto, è stato decisamente piccolo, però se ci mettiamo anche coloro che pensano che migliorerà un po' la situazione della propria azienda, vedete, tocchiamo un quarto delle imprese del Cuneese, a fronte di questo 25% di ottimismo abbiamo un 19% di pessimismo. Anche qui è interessante osservare il confronto con le altre imprese che abbiamo interpellato, nell'indagine Union Camere, vedete un dato che non si discosta molto, è leggermente superiore sia alla media italiana, sia alle aziende del nord-ovest. Abbiamo affrontato il tema energetico, sappiamo essere un tema estremamente di attualità, a partire da due anni a questa parte, ovviamente con il conclamarsi della crisi in Ucraina, ebbene vedete che un 40% delle imprese che abbiamo interpellato ritiene che sia un problema già da tempo e in prospettiva lo diventerà di più, quindi mostra preoccupazione per questo aspetto, un 15% al momento si è detto al riparo da questo tema, ma pensa che lo diventerà in prospettiva, e quindi se sommiamo queste due percentuali vedete come il 55% delle imprese del Cuneese in realtà ritengono che questo rappresenti un problema, in parte lo diventerà di più in futuro. Un dato assolutamente in linea con la media del nord-ovest, lo vedete, è leggermente inferiore, 6 punti in meno rispetto alla totalità delle imprese italiane. A fronte di questo 55% vedete un 45% di imprese che ritengono che questo non sia un problema e non lo sarà nemmeno in un prossimo futuro, sono abbastanza ottimiste e quantomeno tranquille rispetto al tema energetico. Ovviamente a fronte del tema energetico abbiamo chiesto se l'azienda ha intenzione di effettuare investimenti in azioni di efficientamento energetico nei prossimi due o tre anni, qui l'arco temporale è un pochino più lungo perché sappiamo che gli investimenti richiedono finanziamenti ma anche implementazioni, vedete che anche qui abbiamo un 26%, quindi un quarto di aziende che sostanzialmente dichiarano di avere già investito, non hanno altri programmi di investimento in futuro, un 15%, un 11% dice stiamo già investendo e continueremo a farlo nei prossimi anni, un 11%, poi vedete abbiamo una quota dichiara appunto che non sta investendo ma ritiene di farlo nei prossimi due o tre anni, un 10% e alcuni stanno ipotizzando appunto investimenti ma più a lungo termine, non nei prossimi due o tre anni. Da osservare che una su due in realtà non ha intenzione di investire in efficientamento energetico, non è dato di sapere se perché hanno già, come posso dire, una situazione positiva oppure perché ritengono che questo non sia un problema. Quindi vedete, si polarizza il mondo delle imprese tra coloro che vogliono investire, 49% o hanno già investito e coloro che viceversa non ritengono opportuno farlo. Vediamo la reputazione. Come misuriamo la reputazione? Ipsos è presente in 90 paesi al mondo e abbiamo elaborato un modello che utilizziamo in ogni paese e utilizziamo per qualsiasi ricerca che intenda misurare la reputazione, sia la reputazione delle singole aziende, la reputazione delle istituzioni, la reputazione dei mondi associativi, dei corpi intermedi e così via. In che cosa consiste questa piramide reputazionale? Innanzitutto nella misurazione di quello che è il livello di conoscenza dell'oggetto dell'indagine, quindi della Camera di Commercio di Cuneo in questo caso. Poi a coloro che conoscono chiediamo se sono in grado di esprimere un'opinione e allora parliamo di familiarity, quindi la familiarità e a costoro chiediamo di esprimere un giudizio, un giudizio positivo o negativo, neutro, utilizziamo una scala di valutazione e coloro che esprimono un giudizio positivo rientrano in questo gradino della piramide, della favorability, quindi hanno un attesamento favorevole. A costoro chiediamo se hanno fiducia nell'oggetto dell'indagine, quindi la Camera di Commercio di Cuneo e a coloro che dichiarano di avere fiducia chiediamo se sono appunto disponibili o se di fatto parlano bene sono di fatto la parte più pregiata della piramide reputazionale perché è costituita da quelli che chiamiamo i sostenitori, sono quasi ambasciatori, parlano bene e quindi sono in grado di trasferire un'immagine positiva. Quindi andiamo a vedere come si distribuiscono le risposte, lo vedete qui, l'83% dichiara di conoscere la Camera di Commercio di Cuneo, di questi 45% appunto esprime una valutazione, una valutazione che nella metà dei casi è positiva e la valutazione positiva è accompagnata anche da una fiducia 23%, e tra chi ha fiducia 18%, parla anche bene della Camera di Commercio di Cuneo. Allora, andiamo a vedere un confronto con le aziende del Nord-Ovest e le aziende del Totale Italia. la valutazione è leggermente più bassa, ma è molto influenzata da un livello di conoscenza, vedete l'awareness qua in fondo, che è di 7 punti più basso, quindi è come se ci fosse un trascinamento, diciamo, di questo livello di conoscenza più limitato. Sappiamo che la provincia di Cuneo è una provincia molto estesa, sappiamo che, come dire, in contesti così eterogenei c'è spesso, lo abbiamo visto anche in altri contesti, la difficoltà di essere conosciuti da tutti e questo significa che sostanzialmente sia opportuno in qualche modo comunicare per rendersi più noti, per essere più conosciuti, anche perché lo vedete nella parte destra, coloro che hanno una relazione diretta attraverso il proprio personale con la Camera di Commercio, sono il 49% delle imprese, in realtà, vedete, hanno conoscenza più elevata, ma addirittura un'advocacy più elevata. Guardate il confronto tra coloro che hanno il rapporto diretto o una relazione mediata attraverso appunto gli intermediari che abbiamo visto, commercialisti, notai, eccetera, eccetera, vedete, ci sono ben 11 punti di differenza di advocacy e anche il trust, vedete, ci sono quasi 20 punti di differenza, di fiducia. Cosa significa, lo dicevo prima, più si ha relazione diretta e più si apprezza la Camera di Commercio. Se andiamo a fare un confronto con le associazioni di categoria o con gli enti territoriali, vedete che nella piramide reputazionale le associazioni di categoria, proprio perché hanno una relazione un po' più diretta, godono di un livello di fiducia un po' più elevato, rispetto alla Camera di Commercio nel suo complesso. Viceversa, la Camera di Commercio prevale, anche in misura abbastanza significativa, rispetto a quelle che sono le valutazioni espresse sugli enti territoriali, comune, provincia, regione, nel loro insieme. Ecco, ma qual è il profilo di immagine? Allora, anche qui due parole per dire come viene formulata questa domanda. Prendiamo in considerazione tutte queste caratteristiche che vengono sottoposte ovviamente a rotazione, non c'è mai un ordine fisso, e chiediamo di indicare il grado di accordo rispetto alla caratteristica nel momento in cui viene associata appunto alla Camera di Commercio di Cuneo. Quindi le risposte sono molto d'accordo, abbastanza d'accordo, un accordo intermedio, d'accordo così così, poco o per nulla d'accordo, e poi c'è la parte in grigio che vedete qui nel grafico nella parte destra, nell'istogramma, che è costituita da coloro che non si esprimono. Allora, il primo elemento, quello più riconosciuto, lo vedete, è la trasparenza. Il 15% è molto d'accordo che la Camera di Commercio di Cuneo sia trasparente e corretta, e un 54% abbastanza d'accordo. Se sommiamo queste due percentuali arriviamo a 69%, ed è, come dire, il tratto d'immagine più riconosciuto alla Camera di Commercio. E poi ancora, è una Camera di Commercio di cui si apprezza la competenza e la professionalità del personale. Lo vedete anche qui, un 62%. Abbiamo selezionato le cinque caratteristiche più riconosciute. La facilità di relazione con la Camera di Commercio, ovviamente, lo vedremo poi, è più riconosciuto questo tratto da coloro che ne hanno una relazione diretta. C'è poi questo tratto d'immagine, a me pare, molto importante, vicino alle esigenze delle imprese del territorio. Il tema della prossimità, che sappiamo essere un tema estremamente importante nel momento attuale, non soltanto per i cittadini, ma anche per le imprese. Quindi, questo senso, come dire, di conoscenza e di vicinanza a quello che può essere l'aspettativa, le esigenze, i bisogni delle imprese del territorio, lo vedete al quarto posto e subito dopo in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività aziendale. Poi abbiamo un gruppo di tratti di immagine che si collocano tra il 50 e il 55% di accordo complessivo, quindi, diciamo, ancora stiamo parlando della maggioranza o poco più delle imprese che abbiamo interpellato e quindi servizi in linea con le esigenze delle imprese, il fatto che sia innovativa, all'avanguardia, capace di ascoltare le esigenze delle imprese, in grado di fornire un supporto utile a chi decide e desidera di intraprendere un'attività imprenditoriale, l'efficienza, l'organizzazione e così via. Nella parte bassa vedete invece le caratteristiche che rappresentano un po' delle aree di attenzione su cui investire e quindi, per esempio, c'è questo tema dell'elevata capacità di rappresentanza delle imprese medio-piccole, soltanto 42% riconosce questa caratteristica ma abbiamo un 15% che non è in grado di esprimersi e poi tutto il tema della transizione ecologica, sappiamo quanto è importante anche agli occhi dei cittadini, tutto il tema ambientale della sostenibilità e così via, attenzione, non è un'adesione solo teorica, sappiamo che i cittadini da tempo hanno adottato anche comportamenti virtuosi e quindi c'è una preoccupazione crescente rispetto al tema ambientale ecco, il fatto che le aziende si stiano come dire orientando verso la sostenibilità ormai da tempo è un elemento reputazionale molto forte. Ecco, da questo punto di vista forse la Camera di Commercio di Cuneo sebbene ci sia un 25% che non si esprime rispetto a questo tema però ha degli spazi dei margini di miglioramento cioè un accompagnamento delle imprese sul tema della transizione ecologica e poi l'ultimo aspetto su cui appunto prestare attenzione è il fatto la collaborazione tra le imprese e il mondo della formazione la scuola l'università anche qui abbiamo un 36% che ritiene che la Camera di Commercio di Cuneo favorisca questa collaborazione tra imprese e mondo della formazione però vedete che c'è un 31% che non si esprime un 11% più 3% 14% che in realtà è poco d'accordo che la Camera di Commercio si attiva in questo settore quindi ripeto alcune aree su cui riflettere per quelle che potrebbero essere le strategie future di consolidamento del rapporto con il mondo delle imprese che in larga misura come avete visto è decisamente positivo se andiamo a confrontare diciamo prendendo coloro che sono che si chiarano molto abbastanza d'accordo con le singole caratteristiche quindi la graduatoria è esattamente la stessa vedete come sostanzialmente i giudizi di coloro che hanno una relazione diretta con la Camera di Commercio siano nettamente più positivi rispetto alle aziende che viceversa hanno una relazione mediata con la Camera di Commercio nettamente più elevata quindi sia dal punto di vista della capacità di rappresentanza del fatto di essere innovativa all'avanguardia e così via ma la stessa trasparenza e correttezza vedete dicevo prima con cui è facile relazionarsi ovviamente il 71% tra coloro che hanno un rapporto diretto con la Camera ancora una volta ecco c'è questo elemento molto importante più si conosce la Camera perché si entra in relazione diretta con la Camera e più si apprezza la propria attività anche da questo punto di vista ci sono confronti interessanti perché le valutazioni espresse dalle imprese di Cuneo sono in taluni casi molto più elevate quindi è più apprezzata la Camera di Commercio di Cuneo rispetto al totale Italia vedete per esempio vicina alle esigenze delle imprese del territorio il 57% lo abbiamo visto prima è un 46% a totale Italia ed è un 48% tra le imprese del nord ovest per cui vedete che ne so in grado di fornire un supporto utile a chi desidera intraprendere un'attività imprenditoriale un 52% contro un 40% nel nord ovest e un 44% a totale Italia e ancora altro elemento molto importante in grado di sostenere le imprese a partecipare ai bandi e ottenere finanziamenti incluso il PNRR 47% riconosce questa caratteristica alla Camera di Commercio di Cuneo però nel nord ovest è un 35% 12 punti in meno totale Italia 38% transizione ecologica prima parlavo appunto del fatto che in fondo la graduatoria ecco ma il Comune Mezzogaudio verrebbe da dire nel senso che in realtà è sì al penultimo posto però guardate la differenza rispetto alle aziende esculate alle Camere di Commercio del nord ovest e alle Camere di Commercio a totale Italia quindi anche da questo punto di vista bicchiere mezzo pieno bicchiere mezzo vuoto sicuramente un elemento su cui insistere per i motivi a cui facevo riferimento prima però attenzione perché già oggi la situazione a Cuneo è decisamente migliore rispetto a quella delle altre regioni del nord ovest e del totale Italia abbiamo poi voluto approfondire abbiamo chiesto sostanzialmente quello che è l'evoluzione percepita della Camere di Commercio di Cuneo se è migliorata se è peggiorata e così via abbiamo fatto riferimento agli ultimi due o tre anni e quindi vedete che il 16% dice no è migliorata l'attività di supporto alle imprese da parte della Camere di Commercio di Cuneo il 54% non ha riscontrato cambiamenti ma continua ad avere un'opinione positiva o un'opinione positiva come prima dice negli ultimi due o tre anni vedete invece un 14% dice non ho percepito cambiamenti e comunque non ho un'opinione positiva e negativa e solo un 3% ritiene che sia peggiorato mentre un 13% non si esprime anche qui vedete se confrontiamo il dato dei migliorati con scusate i migliorati di coloro che ritengono che sia migliorata e coloro che ritengono che sia positiva anche se non hanno colto segnali significativi di miglioramento questo 70% in linea con Nord-Ovest è 9 punti in più rispetto alla media italiana delle imprese italiane e quando chiediamo una valutazione sull'attività della comunicazione ebbene anche qua interessante perché mentre la comunicazione rappresenta un po' un elemento critico nel come dire nel complesso delle imprese italiane che abbiamo interpellato per la ricerca fatta per Union Camera lo vedete totale aziende Italia 39% esprime un giudizio positivo a fronte di un 50% che dà appena la sufficienza o addirittura l'insufficienza a Cuneo questo 39% diventa un 56% ed è un dato superiore anche alla media delle aziende del Nord-Ovest che abbiamo interpellato per l'indagine Union Camera quindi c'è sicuramente un attesimento più positivo sulla capacità di comunicare da parte della Camera di Commercio di Cuneo anche qui però non trascuriamo non sottovalutiamo il fatto che c'è un terzo scarso 20% più un 11 che esprime invece valutazioni più critiche sulla comunicazione della Camera di Commercio quali sono i bisogni delle aziende abbiamo chiesto e vedete i primi due posti misura netta si collocano la semplificazione della burocrazia 50% cita questo come bisogno noi abbiamo chiesto di indicare in una lista di bisogni che vedete qui elencati almeno 5 questi e poi supporto per conoscere e accedere a finanziamenti inclusi quelli del PNRR a seguire il supporto per la ricerca del personale quindi facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta la formazione dei dipendenti il supporto nel trovare nuovi clienti nuovi percati l'accesso al credito e così via abbiamo selezionato i primi 5 bisogni espressi e abbiamo chiesto sostanzialmente quello che è un giudizio sulla Camera di Commercio di Cuneo quanto è in grado di supportare la propria azienda su questi temi ecco vedete sulla burocrazia sulla semplificazione della burocrazia c'è un diciamo 5 più 34 un 39% che ritiene che la Camera di Commercio insomma sia in grado di supportare molto abbastanza però a questo 39% si contrappone lo vedete nella parte destra vedete qui un 33% che dice poco o per nulla prevalgono invece giudizi positivi sul supporto per conoscere accedere ai finanziamenti inclusi quelli del PNRR avete visto che si colloca al secondo posto nella graduatoria dell'aspettativa dei bisogni delle imprese qualche elemento su cui riflettere un po' più critico sul supporto per la ricerca di personale facilitare l'incontro tra domande e offerta perché a fronte del 36% che si esprime positivamente c'è un 35% che si esprime negativamente viceversa prevalgono i giudizi positivi sul supporto che la Camera di Cuneo dà alla formazione dei dipendenti delle aziende e anche qui i giudizi positivi e negativi sull'ultimo item che vedete qui supportano il trovare nuovi clienti nuovi mercati sebbene la base appunto sia un pochino più contenuta anche qua però si controbilanziano i giudizi positivi rispetto a quelli negativi un dato che mi ha colpito molto è che mentre a totale Italia quando noi chiediamo in prospettiva futura la sua Camera di Commercio sarà in grado di sostenere le imprese nell'affrontare le sfide le tante sfide che le aziende dovranno affrontare si divide in due lo vedete un 50 47% è fiducioso che la propria Camera di Commercio sia in grado di supportare la propria azienda nelle sfide nel Nordovez un 52 beh a Cuneo è 62 ancora una volta non sottovalutiamo questo 38% che si dichiara meno fiducioso però il fatto che ce ne siano quasi 2 su 3 che si esprimano positivamente rispetto a quello che potrà essere il sostegno garantito dalla Camera di Commercio di Cuneo alle aziende è un dato nettamente più elevato rispetto a quello che abbiamo registrato in altri contesti altro elemento quindi positivo vediamo i servizi offerti a Camera di Commercio allora 77% delle aziende di Cuneo che abbiamo interpellato ha utilizzato utilizza almeno un servizio della Camera di Commercio è una percentuale un po' più bassa rispetto alla la media delle aziende interpellate al nord ovest che è 80% e a totale Italia 81% quindi qualche punto in meno che tiene conto di una realtà territoriale diversa evidentemente quali sono i servizi utilizzati dichiarazione abilitazione il 55% informazione economica di mercato 36% supporto per finanziamenti incentivi accesso al credito 18% orientamento formazione al lavoro 10% e così via le aziende che dichiarano di aver frutto di servizi online sono il 40% su questo bisognerebbe riflettere perché in realtà andrebbe un po' come dire incentivato l'utilizzo dei servizi online tenuto conto del fatto che a Cuneo sono 7 punti in meno rispetto alla media dell'azienda del nord ovest e 11 punti in meno rispetto alle aziende italiane servizi online che a maggior ragione in una provincia così estesa e così articolata potrebbero essere davvero importanti per le aziende del territorio abbiamo chiesto anche qui l'andamento percepito nella qualità dei servizi offerti e vedete che la disponibilità dei servizi fruibili online è comunque considerata in miglioramento un 28% 43% non ha colto significativi cambiamenti ma ne hanno un giudizio positivo e come dicevo prima attenzione perché prevalgono nettamente giudizi positivi su quelli in rosso chiaro e rosso scuro che vedete qui che sono viceversa espressione di opinioni critiche nei confronti della dinamica appunto dell'andamento percepito nella qualità dei servizi anche qui quali sono i vantaggi dei servizi online della Camera di Commercio ne emergono due in misura più significativa è la flessibilità quindi non essere vincolati agli orari di apertura degli uffici 42% menziona questo aspetto attribuito appunto ai servizi online maggiore rapidità di contatto un 26% e però attenzione perché a fronte di questi vantaggi percepiti ci sono alcune preoccupazioni preoccupazioni sono soprattutto rispetto al fatto che i servizi online potrebbero in qualche modo rendere il rapporto più impersonale con l'ente senza referenti senza sapere con chi si è interfacciati questa è una preoccupazione che troviamo anche in altri contesti territoriali e quindi per certi versi nella comunicazione che abbiamo visto essere una comunicazione giudicata positivamente e varrebbe la pena anche di in qualche modo rassicurare rispetto a questa preoccupazione l'altra preoccupazione è appunto che si rischi di perdere in prospettiva la possibilità di avere uffici e sportelli fisici sul territorio come sempre la modalità ibrida quindi l'online e la presenza fisica è considerata quella più vincente per tutti lo vediamo anche per le banche lo vediamo per tutta una serie di altri servizi quindi attenzione a non fare in modo che un rapporto rispetto al quale abbiamo visto SC come dire valutazioni più positive desidero ricordarvi appunto personale competente professionale facilità di contatto e così via ebbene che a fronte dei vantaggi dell'online si affermi come dire la preoccupazione che venga un po' meno la capacità di relazione diretta no? Allora abbiamo visto la positività e riassumiamo in un paio di slide quelli che sono gli elementi significativi emersi non prima di chiudere con invece quelle interviste che abbiamo realizzato con gli esponenti del mondo delle associazioni quindi diciamo che nel complesso nella provincia di Cuneo le aziende presentano un livello di soddisfazione per la propria situazione economica che è superiore rispetto a quello che abbiamo riscontrato a livello nazionale abbiamo visto che a livello reputazionale sicuramente i dati sono positivi però attenzione perché la base della piramide è costituita da un livello di conoscenza che andrebbe in qualche modo aumentato pur nella consapevolezza ripeto che è un territorio molto ampio è una situazione molto articolata però è proprio la base su cui costruire farsi conoscere di più rispetto ad altri enti e organizzazioni sicuramente la Camera di Commercio mostra una performance migliore rispetto agli enti locali però attenzione perché le associazioni di categoria in realtà che sono largamente presenti appunto sul territorio presentano un livello di reputazione leggermente superiore rispetto a quello di cui gode la Camera di Commercio profilo di immagine decisamente positivo della Camera di Commercio abbiamo visto realtà trasparente corretta personale professionale con cui è facile relazionarsi da qui appunto la preoccupazione che menzionavo poc'anzi vicino alle imprese del territorio in grado di fornire informazioni utili per l'attività aziendale e ancora una volta appunto sono soprattutto le aziende che hanno la relazione diretta con la Camera di Commercio a riportare un profilo di immagine decisamente più positivo e più valorizzante otto aziende su dieci e questo è un dato in linea con il dato nazionale e con quello del nord ovest hanno utilizzato almeno un servizio nell'esperienza però è circoscritta prevalentemente a dichiarazione abilitazione informazioni di mercato è interessante però che chi ha avuto la possibilità di sperimentare i valuti positivamente i servizi della Camera e sono stati dei miglioramenti sono stati notati miglioramenti rispetto agli ultimi due o tre anni in termini di disponibilità di servizi online tra le priorità l'accesso ai finanziamenti la ricerca e la formazione personale e l'ampliamento del portafoglio clienti le imprese si aspettano che la Camera sappia sostenere appunto le imprese stesse nelle sfide future che si troveranno ad affrontare e c'è un maggiore ottimismo che decisamente più significa più netto rispetto al dato nazionale e al dato del nord ovest rapidamente l'approfondimento che abbiamo effettuato per capire quello che è il punto di vista delle associazioni di categoria abbiamo realizzato appunto nove interviste semistrutturate quindi non è un dato quantitativo ma noi lo chiamiamo dato qualitativo per capire come si articolano le opinioni quindi vedete qui elencate le associazioni di categoria che abbiamo interpellato e allora tre slide davvero conclusive la relazione con la Camera di Commercio è ritenuta decisamente positiva e proficua dichiarano di avere una buona relazione con la Camera di Commercio apprezzano soprattutto la possibilità di confronto che la Camera spesso offre e nel complesso dichiarano di conoscere piuttosto bene la Camera e i servizi che mette a disposizione delle imprese nella parte destra vedete abbiamo riportato alcune verbalizzazioni quelle più significative vedete c'è un costante scambio con Camera di Commercio recepiscono tutte le nostre istanze ci interfacciamo in maniera costruttiva siamo sempre interpellati per bandi e progettualità europei tavoli delle infrastrutture per la professionalità che mette in campo disponibilità della parte dirigenziale rapporto diretto attenzione ai fabbisioni delle categorie rappresentate sensibilità a sponsorizzare iniziative particolari insomma la Camera fa sistema i servizi anche qui abbiamo visto il punto di vista delle imprese sicuramente sono apprezzati da parte di chi le utilizza le associazioni conoscono talora in misura decisamente più significativa i servizi che la Camera offre e valutano positivamente soprattutto l'efficienza e l'organizzazione la facilità di relazione e la competenza del personale e dal punto di vista dinamico hanno notato appunto riscontrano miglioramenti rispetto agli ultimi due o tre anni perché la Camera si è dimostrata più attenta alle esigenze delle imprese riuscite ad adattarsi anche qui vedete nella parte destra alcune verbalizzazioni guardate completezza di servizi a 360 gradi però attenzione qui c'è un punto debole che non tutti sono a conoscenza di questi servizi anche a causa di una contrazione degli uffici è un elemento di cui abbiamo parlato parlando dell'online e però attenzione che anche Costoro anche questo esponente del mondo associativo evidenzia il livello di conoscenza dei servizi invece in positivo i punti di forza sono nelle risposte tecniche e specifiche segnalate sono attenti alle esigenze dell'interlocutore e poi non ho mai avuto non ho avuto mai nessuno che si sia lamentato nell'ambito della mia associazione sono sempre condivisi con le associazioni di categoria e quindi corrispondono alle esigenze reali delle aziende il loro personale è competente ultima slide appunto abbiamo chiesto rispetto a supporto alle imprese ecco vedete diciamo il supporto è considerato valido per una pluralità di bisogni ma in particolare vengono menzionati dagli esponenti che abbiamo interpellato l'export l'accesso ai finanziamenti il tema dell'accompagnamento sui temi della sostenibilità la formazione del personale la digitalizzazione l'accesso al credito e supporto in caso di concorrenza sleale quali sono viceversa i bisogni rispetto ai quali la Camera non offre al momento un giusto sopporto secondo appunto le associazioni che abbiamo interpellato beh innanzitutto si aspettano un ulteriore potenziamento dell'internazionalizzazione e accompagnamento rispetto ai processi di internazionalizzazione delle imprese e in alcuni casi invece abbiamo colto appunto qualche criticità rispetto alla consulenza finanziaria anche qui ma al Comune Mezzogaudio lo abbiamo registrato anche a livello nazionale questo aspetto ma soprattutto intendo la voce delle imprese che dal punto di vista della consulenza a livello elevato in qualche modo manifestano aspettative di un miglioramento e di una crescita quindi in conclusione le associazioni si aspettano sono convinte che la Camera di Commercio saprà sostenere al meglio le imprese nelle sfide che si troveranno ad affrontare le imprese stesse ecco io ho concluso sono ovviamente a vostra disposizione se ci fossero delle domande di chiarimento approfondimento grazie mille grazie grazie professor Pagnoncelli è stato un onore per noi poter ascoltare direttamente è un privilegio poter ascoltare direttamente da lei quelli che sono stati i risultati di questa indagine che ha fornito sicuramente tutta una serie di spunti e di suggestioni soprattutto su quelle piccole aree in un quadro estremamente positivo di criticità e quindi sicuramente questa ricerca potrà fornire un contributo validissimo per migliorare i servizi che già ed è quello che emerge dal dato sono risultati efficienti ed efficaci per le imprese ci sono delle domande è vero che è stato estremamente esaustivo e quindi ha spiegato tutto in modo assolutamente preciso e puntuale ci sono domande non ci sono domande professore è stato assolutamente straordinario quindi non c'è oppure vi ho tramortito con i numeri per cui no 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 assolutamente stavo dicendo al segretario generale che l'indagine che avevo visto ma non in modo così approfondito è davvero davvero estremamente utile e devo dire che era anche attesa con una certa ansia io a volte enfatizzando dico come dice il sacerdote in chiesa l'aspettavamo come le sentinelle l'aurora perché era veramente attesa perché chiaramente è facile dire che siamo bravi ma è molto più importante sentirselo dire dall'esterno e conoscendo l'amministrazione so che archivieranno in modo positivo tutte le cose belle che sono state dette ma sicuramente lavoreranno su quelle piccolissime aree di criticità per migliorare là dove eravamo un pochino più deboli ecco quindi grazie professore è stato davvero un onore e un privilegio averla con noi lo è stato anche per me vi ringrazio molto e vi auguro buon lavoro grazie 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 ancora professore grazie a voi grazie arrivederci arrivederci bene archiviamo i risultati di questa indagine che sono assolutamente positivi cioè il sondaggio ci restituisce l'immagine di una camera di commercio credibile affidabile che vanta una buona reputazione che sicuramente è frutto dell'operato degli amministratori ma anche di chi ha lavorato e lavora alla camera di commercio e chi lavora qui lo fa in base a un programma degli obiettivi a delle strategie a delle attività e soprattutto in base a quello che viene definito dal PIAO dal piano integrato di attività organizzazione che è la pietra angolare su cui si reggono tutte le attività dell'ente camerale cito il PIAO perché da questo documento che si evincono gli obiettivi risultati servizi le attività le performance della camera di commercio che vi presenterà la dottoressa Patrizia Mellano segretario generale dell'ente camerale Sì grazie Gianni e buongiorno a tutti ecco da parte mia quello che ovviamente il telecomando non funziona dopo che ha funzionato nei giorni scorsi mi sembra normale io mi collego a quello che è stato la presentazione del professor Pagnoncelli partirei proprio da quella da questa piramide reputazionale questo perché la piramide reputazionale ci ha dimostrato ci ha fatto vedere come senza quel awareness senza quella consapevolezza di qual è il ruolo dell'ente camerale qual è il contenuto dell'attività dell'ente camerale è difficile creare rapporto di fiducia è difficile scalare quella piramide che ci vede un po' in affanno rispetto sia al territorio nazionale sia appunto alle associazioni di categorie ci vede un po' meglio posizionati un po' meglio ci diceva il professor Pagnoncelli nelle slide quello quando le imprese quando i nostri interlocutori hanno modo di interfacciarsi direttamente con noi noi siamo conosciuti come un ente che eroga servizi istituzionali che svolge un'attività istituzionale molto importante in primis fra tutte al registro delle imprese ma nel momento in cui andiamo un pochino a indagare andiamo a cercare di far percepire alle imprese tutta la complessità dei servizi che facciamo vediamo che fatichiamo un poco giornate come questa hanno anche quell'obiettivo l'uno quello di portare trasparenza quindi di farci conoscere per come siamo senza il timore lo evidenziamo anche qua il professor Pagnoncelli all'inizio del suo intervento di condividere con voi pubblicamente quelli che sono i risultati di questa sorta di valutazione esterna e terza fatta appunto da Ipsos quindi da un istituto di ricerca internazionale e poi col privilegio di avere la lettura proprio del presidente di Ipsos che ancora una volta ringrazio ecco trasparenza della pubblica amministrazione quindi per renderci anche accessibili per far capire alle imprese ai nostri interlocutori che non è difficile raggiungerci che non siamo molto di più di quello che molte volte si percepisce o del mero tributo che annualmente provvediamo a riscuotere ecco chi siamo inizia dagli organi elettivi della Camera di Commercio è piuttosto nota queste parti sono ovviamente note cercherò di scorrerle molto velocemente perché la Camera di Commercio è un ente pubblico siamo autonomie funzionali è un ente pubblico che è un come dire è amministrato appunto da organi elettivi composti dalle associazioni di categoria in questi in questi slide sono indicate appunto quelli che sono voi vedete qui rappresentata la giunta nell'immagine l'attuale giunta guidata dal presidente Gola che dal 2020 guida la Camera di Commercio tutti i documenti programmatici sulla base dei quali farò questa presentazione questa brevissima presentazione sono appunto quelli approvati dall'attuale giunta e dall'attuale consiglio negli organi di controllo voi vedete citato sia il collegio dei revisori dei conti presieduto dal dottor Vitale composto da revisori appunto dei ministeri dello sviluppo economico come il dottor Vitale del ministero delle imprese del Made in Italy la dottoressa Altobelli e della regione Piemonte il dottor Arese e poi abbiamo un organismo meno conosciuto per i non addetti ai lavori per chi non opera all'interno degli enti pubblici che è questo organismo indipendente di valutazione è una figura strategica è la figura che ha accompagnato e guida la Camera di Commercio e in generale le pubbliche amministrazioni nell'applicazione di tutta la normativa che ha posto l'accento sulla performance degli enti per noi ci sono permettetemi in questo momento di citare brevemente due figure che sono una che ringraziamo per averci guidato sino ad ora in questo percorso la dottoressa Raffaella Dallanese che ci ha fatto scoprire il significato vero e il valore del Piau e di tutto questo ciclo della performance e l'altra che con questi giorni inizia il percorso alla quale porgo a nome di tutta la struttura e ovviamente del presidente del nostro consiglio di amministrazione della nostra giunta è la dottoressa Cattini che appunto da pochi giorni ha iniziato il suo percorso con noi siamo sul territorio abbiamo scelto di essere sul territorio anche nel momento in cui la normativa ha parlato di razionalizzazione degli spazi anche e delle sedi fisiche la scelta è stata fatta nel rispetto della normativa sull'efficientamento sulla riduzione delle spese sull'attenzione alle uscite ma abbiamo scelto appunto questa caratteristica di prossimità siamo però e soprattutto questo è un aspetto ed è una slide a cui tengo molto queste le successive siamo un sistema siamo parte di una rete ed è questa la forza della Camera di Commercio forse non è così percepita forse non riusciamo a tradurla così concretamente nei confronti delle imprese dei nostri interlocutori ma noi siamo un di cui di un sistema molto più ampio che trova il suo fondamento la sua radice in Unione Camera Nazionale che trova degli elementi dei punti di riferimento fondamentali a livello regionale e noi abbiamo apparteniamo e ci riconosciamo nell'Unione Regionale ringrazio qua il dottor Paolo Bertolino il segretario generale di Unione Camera Piemonte che è con noi in sala nonostante il meteo avverso e ringrazio appunto Annalisa Delrico che è un funzionario di Unione Camera Piemonte siamo una delle Camere di Commercio dovremmo diventare 60 al momento siamo ancora in 65 e abbiamo ci avvaliamo di aziende speciali non più dirette perché come Camera di Cuneo da oltre un anno non abbiamo più l'azienda speciale ma ci avvaliamo di società di sistema questo ci permette di andare in profondità e di verticalizzare servizi molto qualificati molto performanti che riusciamo a rendere in questo modo a disposizione delle imprese siamo un anello verso le Camere di Commercio italiane all'estero e per le Camere di Commercio che Italo-Estere che operano sul territorio nazionale siamo una rete anche sul territorio siamo una rete con gli enti locali siamo una rete con i professionisti siamo una rete con le associazioni di categoria con gli istituti di ricerca con le università siamo una rete con le fondazioni bancarie e non bancarie cito fra le altre la fondazione Piemonte Innova cito il centro estero per l'internazionalizzazione siamo una rete nel senso che lavoriamo abitualmente in sinergia in relazione con altri soggetti per potenziare i servizi nonostante un organico che è davvero un numero di uffici che non sia spropositato siamo una rete anche in ambito trasfrontaliero siamo una rete perché e questo ci vede favoriti da una posizione di confine la Camera di Commercio di Cuneo al pari di quella di Torino è naturalmente proiettata sulla vicina Francia questo ha fatto sì che da anni noi operiamo sul versante della cooperazione trasfrontaliera sui vari uffici abbiamo scelto di strutturare un ufficio dedicato proprio per questo voi vedete sono riportati nella slide alcuni dei progetti nuovi sui quali il nostro ufficio sta già lavorando o sta predisponendo candidature per i bandi integrati territoriali e questo essere rete ci consente poi di tradurre le opportunità e servizi e contatti nei confronti delle imprese interessate a trovare partenariati a sviluppare relazioni oltre il confine qua sono dati macroeconomici per dire il nostro tessuto economico di riferimento il professor Pagnoncelli ce ne parlava ci parlava di un tessuto di imprese che hanno fiducia nonostante tutto guardano al futuro con una certa positività e intravedono una certa stabilità è vero che l'indagine era stata commissionata ad ottobre alcune cose e cose importanti continuano a succedere e sono successe nei mesi successivi quindi sarà poi interessante vedere il prosieguo dell'indagine a livello nazionale è già stata avviata l'indagine successiva a livello di Camera di Commercio starà la Giunta a pronunciarsi ma è verosimile che attività così importanti non hanno senso se non vengono proseguite ripetute nel tempo per dare poi una continuità anche un termine di paragone di confronto ecco mi soffermo non tanto sui dati economici questi vedete sono quelli più aggiornati in questo momento i dati delle imprese sono al 31-12 ma qui siamo noi con Infocamere che governiamo il dato del registro imprese riusciamo ad avere con assoluta tempestività la lettura del dato il dato dell'export e del mercato del lavoro sono dati di fonte Istat sino a marzo non avremo i dati ufficiali quindi mentre export qua si ferma al 30 settembre abbiamo i dati al terzo trimestre i dati del mercato del lavoro sono al momento ancora previsionali ecco l'aspetto importante di oggi prima il nostro moderatore Gianni lo citava e questo Piau che qua vedete riportato abbiamo scelto di riportare e permettetemi un ringraziamento al personale del nostro ufficio relazioni col pubblico che ha tradotto in immagini in grafici queste slide che servono a me per seguire un filo del discorso senza perdermi troppo su alcuni aspetti e a voi per avere dei punti di riferimento da osservare ecco qui voi vedete come i cicli della programmazione si intersecano durante l'anno e si succedono appunto in continuità senza soluzione di continuità qui vedete ci sono abbiamo provato a colorare con i colori blu più intenso quelli che sono prettamente economici e finanziari e inserire dell'arancione sempre più intenso quando si parla di cicli che sono invece inerenti prettamente alla performance e quindi gli obiettivi gli uni e gli altri non possono andare mai disgiunti questa è la premessa di fondo dal preventivo economico quando entrano gli indicatori risultati attesi sugli obiettivi strategici al Piau che mette a terra individua proprio le linee di attività dell'ente e ovviamente non può fare a meno di tenere conto delle risorse perché tra gli n documenti che il legislatore ha fatto confluire nel Piau ce n'è uno che riguarda proprio tutti gli aspetti del piano dei fabbisogni del personale va a decidere le politiche assunzionali dell'ente quindi le politiche in base al quale poi l'ente appunto la dirigenza la struttura metterà a terra con tutto il personale le linee che sono state individuate gli obiettivi che sono stati tracciati e poi così andare avanti con la misurazione di quelle il monitoraggio periodico di quegli obiettivi la redazione del consultivo e quindi la valutazione di quella che è la effettiva capacità e quella che si è dimostrata essere l'effettiva capacità di raggiungere quegli obiettivi quest'interrelazione che questa slide evidenzia molto bene dove c'è questo documento di programmazione integrata del piano integrato di attività e dell'organizzazione dell'ente che si interseca tra i dati e tra il spunto dal preventivo economico e viceversa il preventivo economico che non può fare a meno di guardare a quelli che saranno gli obiettivi perché al proprio interno deve dare evidenza appunto a questo piano degli indicatori dei risultati attesi quindi andare già a scrivere quali saranno gli indicatori su cui verrà misurata l'azione dell'ente ecco il Piau è stato definito come una sorta di mappatura del cambiamento della pubblica amministrazione è stato detto appunto anche prima da Gianni quando mi ha introdotta questa scelta del legislatore di farvi confluire tutta una serie di documenti che prima avevano una loro vita disgiunta ma l'aspetto più importante è che la nostra OIV appunto ho citato prima soprattutto la dottoressa Dallanese perché è con lei che abbiamo intrapreso questo percorso e ci ha accompagnato a comprendere il significato il Piau ci ha portato nell'ottica del valore pubblico e questa è stata proprio un po' la chiave di volta che ha permesso alla nostra Camera di Commercio di capire come al di là dei dati formali al di là degli aspetti al di là dei documenti che sicuramente vengono integrati in un unico documento più leggibile ogni anno cerchiamo di ridurre il numero di pagine non perché ci siano meno contenuti ma la sfida è a renderli con maggiori grafici con maggiore facilità di lettura perché sia letto e quindi compreso è quello di andarci a domandare dove la Camera di Commercio può creare valore noi siamo un ente pubblico abbiamo il dovere di dare conto al territorio e questa è la giornata della trasparenza di come utilizziamo le risorse ma abbiamo anche il dovere di andare a misurare e a non aver paura di misurare quali ricadute genera l'attività nostra del personale di tutti gli uffici e delle risorse che al personale agli uffici la nostra amministrazione ha reso disponibile perché venissero appunto veicolate al territorio e alle imprese qui vedete rappresentate in questa slide alcuni degli ambiti dove è più diretto e più facile misurare quello che è il valore pubblico che la nostra azione va a generare e va a determinare ecco qualche numero non possiamo non partire dai numeri parliamo di trasparenza voi vedete qui rappresentata la parte l'aspetto delle entrate supera gli 11 milioni di euro complessivamente il bilancio della Camera di Commercio qui lo vedete ripartito al lato entrate in quella che è la principale fonte del nostro gettito che è il diritto annuale noi siamo un ente pubblico ma l'introito che ci permette di funzionare deriva in larga misura siamo circa i due terzi delle nostre entrate dal diritto annuale questa imposta a carico delle imprese iscritte tutte le imprese in misura differenziata per natura giuridica sono tenute a pagare dal 2016 è stato ridotto dal 2014 è stato ridotto successivamente è stato introdotto un aumento del 20% nelle etichette di fianco vedete qual è l'incidenza di questo aumento non è banale tenerlo differenziato perché l'aumento non può essere utilizzato per spese di funzionamento degli enti ma unicamente per spese promozionali per interventi specifici su ambiti che vadano a far crescere l'attenzione delle imprese del territorio ecco fronte delle spese fronte degli oneri qui l'etichetta è un'etichetta parlante perché uno degli obiettivi più importanti che ancora oggi il legislatore ha messo l'attenzione alla base di ogni attività alla base anche degli obiettivi dirigenziali senza questo indicatore senza rispetto della norma di legge non c'è alcuna retribuzione di risultato non può esserci per i dirigenti e l'indicatore prevede che i tempi di pagamento siano inferiori ai 30 giorni per la nostra Camera di Commercio siamo alla metà del tempo la Camera di Commercio paga i propri fornitori in 15 giorni sul fronte delle spese vedete invece come la riusciamo grazie ad una gestione efficiente a rendere alle imprese in interventi economici oltre il 40% di quello che sono appunto i nostri introiti e dato anche superiore se consideriamo anche gli accantonamenti perché molte volte l'erogazione dei contributi e la realizzazione degli interventi avviene attraverso il bandi alle imprese o altre forme di finanziamento ogni volta che non si concludono entro l'anno solare generano un accantonamento quindi in bilancio viene evidenziato come una posta a sé ma sono sempre di natura promozionale gli oneri di funzionamento sono invece decisamente contenuti e così gli oneri del personale il cui andamento ha purtroppo risentito delle normative che negli anni hanno imposto un limite importante in precedenza addirittura un blocco alle assunzioni un'altra slide che volevamo alla quale tengo in modo particolare è questa perché ci permette di vedere come sono suddivisi gli otto obiettivi strategici che sono stati individuati dai nostri amministratori e quali risorse a questi obiettivi suddivisi per macroare sono state assegnate questo è proprio per dire legare la parte della performance il ciclo della performance a quello che è invece il ciclo economico dietro all'obiettivo ci sono le risorse per raggiungere quell'obiettivo è immediato ed è piuttosto visibile come gli investimenti più significativi vadano su quella che è la linea della digitalizzazione dell'orientamento al lavoro digitalizzazione oggi abbinata anche alla sostenibilità e a seguire tutto quanto riguarda anche il discorso di quelle che sono invece gli interventi di valorizzazione turistica e di nelle linee del valore pubblico si parlava di attrattività del territorio c'è da dire che queste sono le risorse del nostro bilancio la camera di commercio prima dicevo è un sistema rete sistema rete significa che molte volte le risorse che noi destiniamo sono in realtà un volano di cui per altre risorse che da altre amministrazioni riusciamo ad intercettare e che insieme ci permettono di riuscire ad essere decisamente più incisivi così è sul discorso dell'internazionalizzazione insieme alla regione piemonte così grazie ad una azione veramente vincente di Union Camera e Piemonte è stato con la regione Piemonte e lo sarà per il prossimo biennio in termine di sostegno alle imprese sulla digitalizzazione dove di fronte a un milione di euro investito dal sistema camerale la regione Piemonte nel 2023 ne ha stanziati prima 10 poi altri 12 quindi con un risultato direi decisamente positivo per tutte le nostre imprese tutte queste azioni sono portate avanti dalla Camera di Commercio abbiamo visto sotto la guida dei nostri amministratori degli organi di vertice da una struttura che è composta da 78 persone in grande maggioranza donne abbiamo 18 colleghi di genere maschile i quali teniamo in modo particolare e siamo riusciti con grande soddisfazione riprendendo i concorsi a far scendere l'età media al di sotto dei 50 anni non è non è solo una battuta è un qualcosa di notevole perché abbiamo bisogno come Camera di Commercio di inserire persone sempre più preparate sempre più qualificate stiamo investendo sulla formazione di tutto il personale vedere scendere l'età media significa anche attestare come la Camera di Commercio continua ad essere una realtà che può essere attrattiva anche per persone più giovani con competenze qualificate la spesa del personale l'abbiamo visto prima supera i 3 milioni e mezzo come investiamo le risorse abbiamo anche un patrimonio che supera i 10 milioni di euro ci sono dei vincoli sull'utilizzo degli avanzi patrimonializzati che derivano da normative ministeriali quello che stiamo cercando di fare è di conservare il patrimonio soprattutto il patrimonio immobiliare qui scelte lungimiranti le ha fatte le sta facendo l'attuale giunta e l'attuale consiglio perché dopo molti anni è arrivato il momento di intervenire in modo significativo e importante sul patrimonio immobiliare lo abbiamo fatto in questa sala voi vedete appunto nel 2023 è stata riqualificata e resa più performante anche sotto l'aspetto della digitalizzazione delle attrezzature lo abbiamo fatto nel vicino palazzo di tetto sottile in parte avviato grazie ad un progetto europeo ma poi proseguito grazie a risorse del bilancio della camera di commercio in modo significativo e con un contributo anche del GSI per quanto riguardava l'efficientamento energetico lo abbiamo fatto nella vicina sala chi di voi ancora non l'ha vista in uscita è invitato ad andare a vedere quello che è il nostro salone del futuro che ospita lo spazio imprese che è stato ampiamente citato anche dal presidente in apertura lo faremo nel 2024 questo palazzo compirà 100 anni nel 2026 grazie ad una delle società di sistema Tecno Service Camere abbiamo concluso tutta la fase di progettazione e prenderà il via ora tutto il lavoro che ci vedrà per qualche tempo impacchettare l'esterno del nostro palazzo per mettere in sicurezza e riportare e fare il restyling e la messa appunto in primis in sicurezza ma soprattutto per restituire alla bellezza di questo palazzo che è considerato da numerosi architetti che abbiamo interpellato come il palazzo in stile Liberty tra i più belli se non il più bello di Cuneo il più rappresentativo di un'epoca e che abbiamo il privilegio di utilizzare come sede di lavoro e che vogliamo appunto poter conservare e consegnare alle future generazioni quindi questo importante lavoro non sarà l'unico perché stiamo proseguendo all'interno con il recupero e il restyling della sala al secondo piano che è quella dove si riuniva abitualmente il consiglio camerale che necessitava di interventi importanti e della nostra sede di Alba dove anche quest'anno appunto prenderanno i via i lavori per il rifacimento interno oltre a delle attività di acquisti e di ammodernamento interno è un'attività che prosegue sul riordino e la messa a valore del nostro archivio documentale giornata della trasparenza torno velocemente a questo per darvi alcuni dati mi è stato chiesto anche di nel titolo è evidenziato raccontare qualche numero delle attività che come Camera di Commercio il nostro personale pone in essere e qui vedete appunto le sezioni in cui potete trovare conto di tutti i documenti di tutti gli atti che come Camera di Commercio noi redigiamo e la nostra giunta approva il nostro consiglio approva le determine dirigenziali e tutti quanti gli atti programmatori e di rendicontazione che vengono via via elaborati secondo i canoni appunto della normativa sulla trasparenza il decreto legislativo 33 che li è citato e poi vedete questa attività questa attenzione che dall'anno scorso abbiamo iniziato che proseguiamo nella redazione del bilancio sociale nel rendere conto al territorio e agli stakeholder di che cosa facciamo ecco questo bilancio sociale che nel mese di giugno ci vedrà nuovamente partire appunto con organizzare una presentazione per dar conto del secondo anno dopo che il primo è stato realizzato nello scorso anno qualche numero sono tanti i dati e i numeri che noi potremmo citare qui ne abbiamo scelto solo alcuni di quelli più significativi si parla di sostegno alle imprese si parla di una modalità privilegiata per intercettare le imprese quella attraverso i bandi qui vedete riportati quelli che sono i bandi che sono stati finanziati grazie a risorse della Camera di Commercio sia nei confronti delle imprese sia nei confronti dei soggetti aggregati e collettivi sono riportati gli importi complessivamente sfiorano il milione e ottocentomila euro e sono appunto significativi è significativo il numero delle imprese beneficiarie ed è significativo appunto la varietà di tematiche che sono state affrontate diciamo che a riguardo una scelta che è stata fatta dalla giunta nelle ultime annualità è stata quella di concentrare gli interventi sulle tematiche più significative siamo ormai lontani anni luce dal momento in cui si cercava di erogare e c'era appunto l'attenzione per erogare una pluralità di contributi si cerca di privilegiare contributi più significativi che possano fare la differenza proprio per far sì che la Camera di Commercio sia vista come quella quell'ente che possa contribuire a innescare la cantierizzazione di un intervento di un investimento sono anche sempre di più i bandi li abbiamo iniziati a sperimentare l'anno scorso i quali si guarda dopo un percorso di accompagnamento abbiamo bisogno e le slide di Pagnoncelli ce le hanno evidenziato di farci conoscere di dare alle imprese la consapevolezza di che cosa la Camera di Commercio può fare questo lo possiamo fare anche attraverso l'accompagnamento e l'avvicinamento delle imprese anche attraverso i bandi qui vedete quelle che sono le attività del registro delle imprese i numeri riportano le pratiche gestite oltre 55.000 è un numero importante perché tutti quanti sappiamo leggiamo i dati di nuove imprese leggiamo le dinamiche dei tessuti imprenditoriali vediamo che è lento calo il tessuto imprenditoriale siamo al 3112 ancora sopra le 80.000 imprese ma negli anni si è registrato un progressivo e lento calo questo non significa però che non si sia noi diciamo sempre strutturato il tessuto imprenditoriale è aumentato il numero di società iscritte ad un aumento del numero di società iscritte segue in parallelo un aumento delle pratiche gestite quando poi addirittura non si intersecano anche altri adempimenti qui vedete l'assegnazione dei domicili digitali c'è stata tutta la normativa sul titolare effettivo ci sono n adempimenti che poi per un ufficio così nevralgico come quello del registro delle imprese di tutte le attività connesse si traducono in come dire in carico di lavoro che viene gestito con un tempo di evasione decisamente interessante e importante ecco è un ufficio intermediato di natura il registro delle imprese non può non essere intermediato perché normalmente le imprese non arrivano mai direttamente al registro imprese arrivano tramite i professionisti l'invito io sono fermata il più delle volte tra le altre cose sono anche conservatore del registro delle imprese il più delle volte da professionisti che si complimentano per la tenuta del registro imprese per l'efficienza del nostro ufficio l'invito a trasferire questi complimenti e questi apprezzamenti anche alle imprese che voi assistete perché abbiamo necessità di far comprendere alle imprese come dietro il lavoro del personale c'è davvero l'impegno e lo sforzo a rimanere a dare appunto quell'aggiornamento che può essere così importante così utile per partecipare a gare d'appalto o per altre procedure che possano essere utili il mio telecomando è di nuovo fermo le slide successive se riusciamo a scorrerle se no lascerei poi a voi visualizzarle riportano alcuni altri dati che sono quelli riferiti ad alcune delle attività non tutte le attività degli uffici camerali proprio perché si è cercati appunto di concentrarci su quelle che sono le attività più significative e di maggior impatto sulle sulle imprese un aspetto che mi ha colpito nella presentazione del professor Pagnoncelli era quella del ecco qua vedete l'attività degli sportelli noi abbiamo scelto di essere presenti su quattro sedi la sede di Cuneo Alba Mondovie e Saluzzo nel rispetto della normativa sulla razionalizzazione degli spazi le quattro sedi le abbiamo ritenute importanti nonostante stiamo investendo accompagnando le imprese alla digitalizzazione questo perché perché abbiamo la consapevolezza di un tessuto imprenditoriale ancora molto piccolo ancora poco strutturato che ancora necessità di essere accompagnato anche per ottenere dispositivi che presuppongono poi la digitalizzazione e su questo appunto il nostro consiglio e la nostra giunta sono stati dell'avviso di proseguire in questo approccio questa slide è particolarmente interessante e importante dopo le parole del professor Pagnoncelli che ci sollevava e ci evidenziava la richiesta delle imprese di essere accompagnati sul fronte dell'internazionalizzazione la scelta che ha fatto la Camera di Commercio è stata di investire nella qualità dell'accompagnamento quindi non più con un'azienda speciale che aveva un respiro che c'era stato precluso dalla riforma perché l'obiettivo di un'azienda speciale che per 40 anni ha accompagnato le imprese sui mercati esteri non poteva più essere considerato attuale ma investendo su quelli che sono le professionalità di esperti che possano accompagnare davvero le imprese sui mercati internazionali attraverso questa sinergia con CEP Piemonte la cui antenna è adesso ubicata presso lo spazio imprese proprio per poter essere facilmente agevolmente intercettata da qualunque impresa qualunque professionista o associazione voglia accompagnare l'impresa nei nostri spazi fisici per avere informazione per essere messa in contatto con le opportunità che possano esserle più utili e poi tutta una serie di progettualità e di servizi che sull'internazionalizzazione il nostro personale riesce a rendere disponibili i numeri voi vedete sono interessanti perché sono numeri che sono sicuramente in crescita e comunque presuppongono accompagnamenti e un'attenzione personalizzata qui vedete anche quelli che sono gli eventi che sono stati realizzati da un ufficio molto giovane il nostro ufficio PID l'ufficio che è nato recentemente negli ultimi anni ed è l'ufficio che vede l'accompagnamento delle imprese verso la digitalizzazione soprattutto delle imprese meno strutturate e qui sono riportati tra gli altri i numeri delle persone che vengono delle imprese che vengono intercettate con un accompagnamento personalizzato e riportato nuovamente l'importo di un bando che è anche incluso nell'altra slide semplicemente per dire che la maggior parte delle risorse dei bandi vengono destinate all'accompagnamento all'innovazione oggi sempre più al pari in abbinamento con la sostenibilità le ultime slide non riportano più numeri semplicemente link perché sono degli ambiti nei quali come camera di commercio abbiamo l'obiettivo di portare un contributo alle imprese e agli stakeholder del territorio lo facciamo aggiornando i nostri focus i nostri report che periodicamente redigiamo ed elaboriamo lo facciamo in collaborazione anche qui con la rete del sistema camerale soprattutto a livello regionale e lo facciamo poi con le associazioni di categorie e gli ordini professionali se parliamo ad esempio di prezzari e di prezzario delle opere di impiantistiche qui di nuovo una serie di link per darvi conto di quelli che sono altri servizi dove voi potete trovare informazioni per quelli che sono ambiti specifici di interesse e di attività nei quali la camera di commercio è presente e opera in funzione di specifiche competenze normative con personale altamente preparato in ultimo la comunicazione abbiamo la consapevolezza la certezza di avere tanto ancora da dire da investire per accrescere il livello e la capacità di comunicazione perché abbiamo bisogno di essere davvero percepiti nonostante una delle slide del professor Pagnoncelli sembrava più rasserenante rassicurante su questo aspetto siamo consapevoli che c'è ancora tanta strada da fare e la stiamo facendo e stiamo cercando di farla in sinergia sia con la fondazione Piemonte in Nova sia con Unione Camera Piemonte e qui ringrazio Annalisa che adesso interverrà e ci racconterà le nuove frontiere della comunicazione più social rispetto alle tradizionali forme ma già oggi come Camera di Commercio grazie al nostro ufficio URP cerchiamo di raggiungere le imprese attraverso il nostro sito che è il principale canale attraverso cui potete essere aggiornati su ogni attività e attraverso le newsletter e il CRM sul quale stiamo anche investendo perché intendiamo contribuire a creare poco per volta una rete bidirezionale che ci veda comunicare con le imprese e ricevere dalle imprese e mettere a valore i ritorni che ci possono arrivare ecco l'invito a tutti quanti a non aver paura di interfacciarsi con i nostri uffici a prendere contatto con noi attraverso il sito attraverso l'URP attraverso il telefono attraverso le nostre sedi perché come Camera di Commercio insieme ai professionisti di fiducia insieme alle associazioni di categoria riteniamo di poter portare un contributo in quanto disponiamo di questa massa critica di questa rete di questo sistema che con noi è in grado appunto di portare un valore aggiunto al nostro territorio grazie a tutti Grazie Patrizia chiudiamo la giornata di oggi con l'intervento di Annalisa Delrico responsabile della comunicazione Union Camera Piemonte coordinatrice PA Social per il Piemonte per la Valle d'Aosta giornalista che si occupa di alcuni anni di divulgazione di ricerca sui temi legati alla cultura digitale alla digital education quindi a te Annalisa grazie grazie Gianni buongiorno a tutti grazie innanzitutto per l'invito al presidente Gola e alla dottoressa Mellano allora vediamo se partono se partono le slide oggi parleremo di comunicazione faremo un passo avanti e cercheremo di andare di andare oltre la trasparenza parlando del ruolo della nuova comunicazione nella pubblica amministrazione appunto partiamo di qua dove deve stare un ente pubblico dove deve stare una camera di commercio la risposta in fondo sembrerebbe facile dove stanno i cittadini se riusciamo a creare un rapporto diretto con i cittadini sicuramente sarà più facile creare un dialogo e una comunicazione più più diretta la domanda è perché una PA allora deve essere social qual è la funzione abbiamo parlato di servizi abbiamo parlato di reputazione e allora perché dobbiamo come camera di commercio come sistema raccontarci perché appunto è lì che ci sono i cittadini lo vedremo adesso da alcuni dati anche che che presenterò e non è facile no? incontrarli per strada una volta si andava al mercato insomma i politici lo fanno ancora durante le campagne elettorali perché la dinamica è la stessa dobbiamo andare a cercare le persone con le quali vogliamo instaurare un dialogo esattamente nel punto in cui sono perché noi come pubblica amministrazione non dobbiamo fare engagement non è questo il nostro obiettivo dobbiamo creare invece una relazione di confidenza di fiducia una relazione è un termine che abbiamo già sentito prima non facciamo marketing di prodotto non ricorriamo i like sui social non è questo il nostro obiettivo nonostante sia fondamentale averne ma ma dove è il ma dobbiamo creare la fiducia che cos'è la fiducia è davvero un rapporto diretto un rapporto empatico aperto come quello di un bambino che si affida è un po' questo l'obiettivo finale il cittadino che si affida ai nostri servizi all'esperienza del personale alle competenze presenti che abbiamo visto esserci in che modo dialogando e poi la parola il succo di tutto dialogando con un dialogo aperto e con un linguaggio accessibile che arrivi direttamente in modo anche qui senza burocrazia senza infingimenti potremmo dire un mondo che è immediato che non come dire è trasparente proprio come la giornata di oggi con l'obiettivo vero che è quello di fornire informazione chiare e corrette siamo in un mondo pieno di fake news abbiamo anche la responsabilità come camera di commercio l'abbiamo visto durante la pandemia insomma e durante tanti altri eventi di combattere le informazioni non corrette e infine rimanendo al passo con la tecnologia perché come diceva Francis Bacon ormai nel 1600 chi non applica nuovi rimedi deve essere pronto a nuovi mali perché il tempo è il più grande degli innovatori non possiamo fermarci e rimanere fermi sulle nostre posizioni dobbiamo sia come imprenditore questo e come pubblica amministrazione non avere paura di affidarci alla tecnologia certo è un mondo da come dire tarare anche nell'ottica dell'intelligenza artificiale che sta cambiando l'approccio stesso della tecnologia però affidiamoci con consapevolezza attraverso percorsi di formazione a questo a questo nuovo mondo entrando in questa nuova era perché facciamo un passo indietro per guardare un po' lo scenario in cui si muove il PA Brand Expert che io ho definito così perché è una figura così un po' multiforme nella pubblica amministrazione la legge 150 del 2000 definisce il ruolo dei comunicatori c'è un ufficio stampa c'è un URP c'è ci può essere un portavoce però non parliamo perché la legge era appunto del 2000 delle nuove forme di comunicazione quindi la legge sulla comunicazione nella pubblica amministrazione non parla di questa figura un po' a tre teste e che non trova applicazione chi si occupa dei social in una in una pubblica amministrazione chi gestisce tutte queste queste nuove attività pensiamo ai podcast pensiamo ai video pensiamo alle immagini lo dicevamo prima il presidente Gola aveva realizzato per la giornata di oggi un bel video immaginiamo quanto questo fosse incredibile qualche qualche anno fa però però è credibile perché perché nonostante un calo della popolazione italiana che che vediamo in larga misura anche sul Piemonte aumentano le persone connesse a internet e aumentano le persone connesse alle piattaforme social aumentano le persone che hanno uno smartphone il 97% immaginiamo qual è la prima cosa che facciamo la mattina e l'ultima la sera ecco allora abbiamo la risposta su dove e come riusciamo a arrivare al cittadino pensiamo alle capacità di multitasking dove se non abbiamo un cellulare spesso abbiamo un computer e un cellulare insieme e così via quindi dobbiamo arrivare a utilizzare quei canali perché dall'altra parte in quello smartphone in quel device c'è un cittadino che ci chiede informazioni e che ci chiede di avere tutte le informazioni a qualunque ora perché H24 vogliono sapere a che ora non so si può fare quella pratica e vogliono avere informazioni sul bando del PNR allora è per questo che dobbiamo attivare i canali social per avere davvero e offrire servizi H24 anche il sabato e la domenica in che modo utilizzando magari anche la nuova tecnologia quindi chatbot che sono l'assistente virtuale che può aiutare quando ad esempio sul sito o sui social o su altri strumenti non c'è a disposizione in quel momento il personale perché un italiano su tre questi sono dati i piepoli un italiano su tre non sa cosa aspettarsi dal web ma chi invece si aspetta qualcosa ecco che vuole l'informazione vuole notizie vuole anche avere dei punti di riferimento chiari chiede il cittadino un dialogo diretto e costante con la pubblica amministrazione e quando si va a chiedere al cittadino che tipo di servizi vorresti invece avere dalle app di messaggistica su smartphone come whatsapp come messenger come telegram perché è anche un po' questa la nuova frontiera quindi attivare dei canali su le app di messaggistica in modo anche qui da da essere sempre aperti realizzare un urp virtuale non solo fisico ma insomma che faccia da spalla a quello fisico bene cosa risponde cosa rispondono gli italiani il 26% vorrebbero informazioni di servizio e vorrebbero addirittura uno scambio poter ricevere inviare documenti immagini video in modo immediato in modo istantaneo magari comodamente dal proprio divano e poi vorrebbero un dialogo un'interazione diretta c'è questa esigenza che abbiamo riscontrato nella relazione del professor Pagnoncelli e il cittadino anche che vuole comunicare è quasi desideroso a fame di informazioni ma soprattutto di un dialogo aperto e diretto con la pubblica amministrazione in realtà il 7% chiede di accedere direttamente in chat ai servizi digitali e allora dove si informano i cittadini e poi insomma siamo noi dove ci informiamo l'abbiamo detto prima la prima cosa che guardiamo la mattina il cellulare quindi è internet che ci dà le informazioni insomma sono anch'io giornalista conosco il mondo e i giornali e i quotidiani insomma su questo stanno stanno un po' soffrendo non parliamo di una comunicazione più tradizionale che quella dell'advertising sulle strade dei manifesti insomma sta davvero cambiando il modo di trasmettere informazioni che cosa pensano invece i cittadini sull'utilità delle informazioni dei servizi dell'APA sui social il 54% risponde che sono abbastanza utili il 24% molto utili quindi anche qui notiamo dei margini molto ampi il 78% di cittadini che desidera avere informazioni e servizi in questo modo ripetiamo perché questo è importante con un linguaggio chiaro trasparente e un'altra cosa molto interessante è che il 32% degli interessati si aspetta che l'APA risponda sia sui social o in chat sempre sappiamo che il FOIA il Freedom of Information Act che è stato così portato avanti durante il governo della Ministra Madia la pubblica amministrazione ha determinato il fatto che la pubblica amministrazione ha determinato l'obbligo per una pubblica amministrazione di rispondere alle istanze del cittadino e in qualche modo è quello che il cittadino chiede di avere risposte alle proprie domande non c'è più questa lontananza non c'è più la PEC non c'è più il fax abbiamo tutti quanti bisogno di accedere direttamente tra l'altro il cittadino è molto più informato di quello che potremmo pensare fa anche una valutazione sul tipo di risposta che la pubblica amministrazione potrebbe o dovrebbe dare viene detto che ad esempio in caso di commenti negativi o vere e proprie forme d'odio il linguaggio d'odio la pubblica amministrazione non è tenuta a rispondere quindi ha anche un grado di consapevolezza del linguaggio da utilizzare nel momento in cui è da farlo lo deve fare prima parlavamo della credibilità e della reputazione un po' come lo specchio di quello che stiamo facendo parliamo di brand di una pubblica amministrazione perché la stessa pubblica amministrazione ha una responsabilità di immagine da gestire certo non siamo un'azienda in senso stretto ma offriamo servizi che sono le nostre pubblicazioni che sono le informazioni stesse di accesso ai vari servizi quindi diciamo c'è una responsabilità anche nell'arrivare ai propri cittadini letti così parallelamente come clienti dei propri servizi e poi c'è un'altra cosa molto importante che tutti i brand trasmettono il valore l'unicità se pensiamo qualunque brand non faccio nomi però trasmette attraverso un proprio claim un proprio slogan il proprio valore bene questa è anche una chiave di lettura è un modo attraverso il quale si può arrivare il cittadino quali sono i valori del nostro ente e poi dobbiamo tenere presente un'altra cosa come ricorda sempre il professor Floridi che siamo nell'on life ormai è tutto mischiato non si parla neanche più di online e offline l'on life è un costante come dire essere immerso in questa in questa realtà dove i confini sono sempre più labili ed è per questo che bisogna lavorare molto sulle competenze perché la tecnologia cambia velocemente e tutti come dire gli strumenti vanno costantemente costantemente aggiornati un'altra cosa importantissima su cui lavorare è la reputazione e anche la prevenzione delle crisi pensiamo tanto per fare un nome che insomma ormai è un po' famoso è passato negli annali il caso di crisi dell'Inps per la famiglia quando sommersi dalle richieste sui social di informazioni ecco c'è stato un momento di crisi della social media manager e quindi ha incominciato a dare risposte non felici e scorrette cosa è successo un istituto è una realtà con grandissima credibilità all'improvviso insomma ebbe un crollo ma lo vediamo tutti i giorni nei vari casi aziendali adesso non fatemi citare la Ferragni però però l'ho citata e ma costa insomma tante tante realtà basta davvero un episodio non gestito dove si si perde il il proprio il proprio posizionamento ecco che poi è difficile è difficile recuperare un altro spunto che posso dare è anche quello relativo alla comunicazione sì dell'ente ma quella fatta anche dai singoli dipendenti e degli stakeholder un post un post qualunque social un commento di valore sotto sotto un nostro all'interno di un nostro social ecco vale tantissimo un post condiviso da un nostro dipendente ha un valore molto alto proprio in termini di di engagement di quel di quel post perché perché vuol dire condivisione dei valori dell'ente all'interno del quale si lavora e così il valore condiviso dicevamo prima dalle associazioni di categoria o dagli altri enti di riferimento senza ad esempio arrivare a parlare dei giornali qual è davvero la posizione che bisogna tenere quella dell'autenticità del raccontarsi per quello che si è e per quello che si fa con onestà di quali servizi possiamo parlare per raccontarci meglio assolutamente di tutti ogni pubblica amministrazione ha davvero nel cassetto tantissime notizie che vanno trasmesse con un principio quello classico e i giornalisti lo sanno della notiziabilità quindi la vicinanza l'interesse umano il desiderio di conoscere quell'informazione è questo che fa scattare poi il fatto di essere ripresi in un comunicato stampa ma di essere anche condivisi su un posto allora chiediamoci quali sono questi PA brand expert della pubblica amministrazione perché dietro ogni slide dietro ogni evento ci sono persone che lavorano su questo sul tradurre il linguaggio attraverso le immagini attraverso dei video e attraverso attraverso la voce dobbiamo pensare che hanno una grande capacità anche qui le colleghe bravissime dell'URP e della comunicazione di tradurre la complessità nella quale nella quale viviamo di come dire rendersi conto di vivere in una costante versione beta dove siamo sempre in sperimentazione e perché lo siamo perché abbiamo una responsabilità come pubblica amministrazione e l'etica una parola una parola chiave dobbiamo essere trasparenti ma perché per accedere per permettere ai cittadini di accedere in modo democratico alle informazioni in più ci sono temi delicati quale la privacy la gestione dei dati personali ed è per questo che ogni parola deve essere deve essere pesata e in qualche modo in qualche modo tradotta ho accenato prima la legge del 2000 che va a disegnare i vari ruoli dei comunicatori nella pubblica amministrazione una legge che andrebbe rinnovata visto che appunto sono passati 24 anni e il mondo è totalmente cambiato perché chi realizza il sito chi si occupa del social la newsletter la dottoressa Mellano ha citato tutte le attività ecco sono tante e richiedono competenze specifiche di scrittura ma anche di lettura capacità video e conoscenza della tecnologia organizziamo eventi come uffici di comunicazione organizziamo conferenze stampa ci occupiamo della rassegna stampa di media relation dobbiamo avere davvero più competenze e strategie competenze singole e dettagliate poi diciamo una cosa non esiste nessun obbligo al momento per nessuna pubblica amministrazione di essere sui social ma sono anni già dal 2011 che insomma ci sono più e più raccomandazioni sempre nell'ottica di una partecipazione virtuale nel senso attraverso l'online alle informazioni alla realtà alle realtà pubbliche questa è una frase della ministra da donne se non sbaglio del 2020 diceva le amministrazioni non potranno trasformarsi davvero in una casa di vetro se non si rilancia e si riconosce il ruolo dei professionisti e delle nuove figure della comunicazione pubblica le relazioni si creano tra persone dicevamo prima abbiamo tutti margini di miglioramento nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini come si crea la relazione tra persone partecipando e creando davvero empatia in quello che viene fatto mi sono divertita aggiungere questo piccolo decalogo per spiegare meglio magari questo rapporto il piccolo decalogo dei sì e dei no che mi sono inventata all'interno di una pubblicazione Pia Brand Expert prendendo spunto da una storia raccontata da Schopenhauer non so se l'avete mai sentita è la storia di due ricci che si avvicinano per cercare di proteggersi dal freddo e più si avvicinavano i due ricci più a un certo punto arrivavano talmente vicini che si dovevano allontanare perché si pungevano e sono andati avanti a lungo avvicinarsi e allontanarsi finché finalmente non hanno trovato una mediazione un punto nel quale insomma conveniva ed era conveniente per entrambi ehm fermarsi in quella posizione la distanza del porcospino che è un po' secondo me la distanza che potrebbe esserci tra pubblica amministrazione e cittadino cioè la distanza media che non permette le polarizzazioni leggiamo spesso sui social no? quanti post quanti commenti sotto i post che in qualche modo possono essere negativi ecco noi dobbiamo arrivare non dobbiamo arrivare a quello dobbiamo raccontare le cose evitando le polarizzazioni evitando che come dire il nostro punto di vista sia troppo lontano da quello del cittadino e come possiamo farlo dicendo ad esempio no al dominio delle parole sull'altro quindi la nostra comunicazione deve essere piana deve essere istituzionale deve essere trasparente ma vicina sia la gestione dell'ira ecco dobbiamo anche qui insomma sorridere al cittadino non dobbiamo avere pregiudizi non dobbiamo essere così trascinati anche dagli stereotipi lato comunicazione e poi dobbiamo capire davvero quale sono le istanze dei cittadini non dobbiamo avere paura di comunicare di raccontarci con empatia e costruendo un dialogo sempre più costruttivo e poi questo dialogo non lo dobbiamo interrompere ma anzi lo dobbiamo far crescere e infine vi vorrei raccontare di questa esperienza la quale sono entrata da qualche anno e di cui fa parte Union Camera e Piemonte ma anche la Camera di Commercio di Cuneo anche la Camera da poco Camera di Commercio di Torino e la Camera del Quadrante del Piemonte quindi oltre a altri 50 soci nella nostra regione e 700 in Italia è una realtà che associa i comunicatori e coloro che si occupano di informazione nella pubblica amministrazione o che comunque hanno a che fare con la pubblica amministrazione abbiamo anche tanti giornalisti ci occupiamo di divulgazione e formazione pubblicazione ricerche e da poco grazie a un riconoscimento del Ministero dello sviluppo economico rilasciamo come Pia Social un attestato che certifica il ruolo del comunicatore qui vado a dettagliare gli obiettivi ma in realtà quello che facciamo è migliorare diciamo come essenza il rapporto tra enti aziende pubbliche e cittadino creando un rapporto più diretto con i cittadini e attraverso nuovi linguaggi e il nostro obiettivo la trasparenza della pubblica amministrazione come realizzando appunto studi ricerche analisi conferenze convegni sul sito piassocial.info troverete di tutto anche in modo aperto e vi invito a Torino dal 4 al 6 ottobre prossimi al festival del digitale popolare perché non è solo comunicazione ma il digitale popolare è un altro asso nella manica un altro strumento che ci permette di fare tante cose prima fra tutti creare un network un network di comunicatori perché spesso anche i comunicatori sono soli nel loro ufficio hanno bisogno hanno bisogno di confronto bene noi facciamo anche questo perché se le formiche si mettono d'accordo possono davvero spostare un elefante anche nella pubblica amministrazione grazie grazie Annalisa per il tuo intervento che ci ha aiutato a capire meglio i meccanismi della nuova comunicazione come hai rimarcato nel titolo del tuo intervento con l'intervento di Annalisa D'Enrico si chiude la giornata della trasparenza grazie a tutti voi per la partecipazione e credo arrivederci alla giornata della trasparenza del prossimo anno grazie buona giornata e buon lavoro grazie